Se si potesse teletrasportare un occidentale in uno di questi siti... La città di Pescara si prepara ad accogliere la prima proiezione del documentario stasera al Teatro Sant'Andrea, Giappone-Abruzzo e le connessioni nascoste. Questo documentario, una coproduzione tra Monti e Ambrosini SRL e la Fondazione Pescara-Abruzzo, esplora cinque secoli di storie che intrecciano il Giappone e l'Abruzzo sotto la direzione di Alessia Ambrosini, l'opera è un tributo alla memoria della yamatologa abruzzese Marisa Di Russo, figura chiave nelle relazioni culturali tra Italia e Giappone. Grazie al supporto dell'Associazione Giappone-Abruzzo è stato girato il documentario includendo materiali inediti che illuminano la storia antica e moderna di questi luoghi. La narrazione si sofferma sulla figura di Alessandro Valignano, gesuita teatino, che ha aperto gli occhi dei giapponesi sull'Europa. Prima della sua missione, gli europei erano considerati barbari, sporti e maleducati e i gesuiti erano visti come avventurieri in cerca di fortuna. Oggi Valignano è una figura di culto in Giappone, apparendo in manga, canzoni pop e persino su un'etichetta di birra prodotta a pretoro. Molti altri abruzzesi hanno costruito ponti culturali tra i due mondi, Claudio d'Acquaviva da Atri, generale dei gesuiti, riconobbe il valore di Valignano e lo inviò in Estremo Oriente. Raffaele Ulisse Barbolani da Colle di Macine, ministro plenipotenziario del Regno d'Italia alla Corte dell'Imperatore. Gabriele D'Annunzio, l'autore italiano più letto in Giappone dopo Dante, Francesco Polo Tosti, il cui repertorio è protagonista di un concorso di canto panasiatico, sono altre figure di rilievo. In tempi più recenti, l'ex pilota di Formula 1, Yerno Trulli, ha raggiunto un ulteriore tassello a questa storia di connessioni. Abruzzo e Giappone condividono anche tradizioni simili, come le spettacolari feste del fuoco. La festa di Tsukagawa è così simile a quella delle farche di Farafigliorum Petri, che guardando delle foto gli abitanti non riuscirebbero a distinguerle. Realizzare questo documento, afferma Alessi Ambrosini, è stato estremamente faticoso, ma molto gratificante. L'obiettivo era raccontare un Abruzzo sconosciuto ai giapponesi e far conoscere ai nostri co-regionali un paese di grandissimo interesse.